C'è un punto di vista che vi propongo semplicemente un punto di vista. E lo farò in maniera anche, cercherò anche di essere molto molto rapido. Il punto di vista è legato al tema di oggi, cioè l'efficienza. L'efficienza costruita su questa nuova opportunità che sono le architetture flash. Per fare questo faccio leva su un punto di vista del secondo analista del nostro mercato di riferimento che è IDC. IDC ha pubblicato questo documento che si chiama From Flash to Value che è legato alla presentazione che potrete ricevere. Sono 40 pagine in cui fa un'analisi di qual è l'opportunità flash oggi e di quale può essere il livello di adozione. Io ho riassunto in tre affermazioni le 40 pagine. La prima affermazione che IDC rende tale, cioè la prima rilevazione che fa sul mercato, è che c'è un continuo sviluppo della terza piattaforma. Terza piattaforma che piace molto come definizione perché riempie anche molto bene la bocca. Terza piattaforma fa riferimento alla piattaforma, all'architettura hardware, a come stiamo costruendo le architetture hardware oggi all'interno del data center. Cioè non più su esigenze o sulle conoscenze hardware che abbiamo adottato sino ad oggi, il 90% dei data center è costruito in modalità abbastanza tradizionale. Ho bisogno di tot spazio, dovrò provvedere tot spazio, ho bisogno di un certo tipo di performance. Terza piattaforma fa riferimento a quella architettura, a quell'infrastruttura all'interno del data center che si costruisce non più dal basso, lasciatemi dire, ma direttamente dalle esigenze di business. Business che sta cambiando molto velocemente. IDC prevede una crescita del dato worldwide entro il 2020 che è stimata intorno ai 40 zettabyte, che sono veramente tanti. E lì dentro non c'è più il dato tradizionale, lì dentro c'è tutto ciò che costituisce la terza piattaforma. Ci sono i tweet che ho mandato io oggi, ci sono le informazioni di Facebook, c'è tutto ciò che conoscete assolutamente molto bene. Ed è evidente che c'è una crescita all'interno di qualsiasi data center. Come altrettanto è evidente che una crescita del genere necessita, e quindi una produzione di dati di tale natura, necessita anche che questi dati possano essere acceduti velocemente. Perché devo accedervi velocemente? Perché devo ricavarne informazioni utili per il mio business. Devo analizzarli, devo assolutamente interpretarli, devo capire che cosa sto facendo con i dati che sto producendo. I dati evidentemente crescono, al contrario dei budget IT, che se va tutto bene sono flat, se le cose vanno un po' meno bene, i budget sono tendenzialmente in decrescita. Come si può interpretare un'evoluzione di tipo da un punto di vista di data center storage? Beh abbiamo una grossa opportunità, che è quella basata sulle architetture flash. Cioè flash può essere la risposta. Siccome abbiamo una risposta, ci siamo detti facciamoci un paio di domande. Queste due domande le tiriamo sempre fuori dal lavoro svolto da IDC. E le due domande sono queste. Domande svolte, domande rivolte a rispondenti, a responsabili di IT, a operativi, a persone che hanno a che vedere con la gestione quotidiana di data center. E sono le seguenti. Come stai utilizzando solid state? Cioè come stai interpretando l'architettura flash di cui tutti stiamo parlando in questo momento all'interno del tuo data center e come la utilizzerai? Mi fermo alla prima risposta. La prima risposta è che quella che raggiunge il maggior numero di consensi è per fare data caching o comunque per accelerare le performance. E questo secondo me è un feedback. Non c'era bisogno che ce lo dicesse IDC. E' così. Oggi flash viene utilizzato spesso e volentieri per accelerare determinate applicazioni. Domanda numero due. Perché non stai utilizzando SSD? Mi fermo alla prima risposta. Solida. Costa troppo. E anche qui probabilmente il feedback è abbastanza comune. Anche Enrico prima ci stava dicendo che il drive SSD costa assolutamente tanto. Come ci stava dicendo che però è la strada. Questo ce lo dicono anche i produttori di SSD. Che sempre di meno sviluppano la dimensione dei drive tradizionali e sempre di più incrementano la dimensione dei drive SSD. Quindi ci sono... abbiamo due certezze. SSD va bene per accelerare le performance. SSD costa veramente tanto. In HP, grazie all'acquisizione di Tripar, per cui perdonatemi questo piccolo dettaglio di prodotto, siamo riusciti a portarci in casa una tecnologia intelligente. Una tecnologia che abbiamo capito, c'è molto chiara adesso, era già pronta per interpretare un mercato che sarebbe andato in questa direzione. Quello che stiamo facendo oggi è, sempre sulla base di quello che ci raccontava Enrico prima, cioè il flash sta arrivando ed è la strada. Quello che stiamo facendo oggi è proporre, dovunque, architetture, storage, array, completamente all flash. Perché? Perché siamo arrivati a un costo... A me piacerebbe tanto parlare, io sposo pienamente l'affermazione di Enrico. Cioè, se i data center avessero la capacità di analizzare il costo per IOPS, invece del costo per Gigabyte, si aprirebbero degli scenari veramente incredibili. Ma la verità è che siamo arrivati a un costo per Gigabyte che è, quantomeno, molto molto interessante. E molto vicino a quello di un dispositivo tradizionale. Provo a raccontarvi come, per fare questo parto da una fotografia assolutamente tradizionale. Cioè, come è fatto un data center storage tradizionale? È fatto in questo modo. Ci basiamo sulla nostra esperienza di tanti anni sul mercato. Un dispositivo storage tradizionale è costruito in questo modo. La colonna blu è la capacità raw che acquisto. È il costo, è il costo finale del dispositivo che vado ad acquistare. Lì dentro c'è tutto. C'è hardware, ci sono i servizi, c'è power and cooling, c'è tutto. La colonna rossa è la capacità che presentiamo ai server. La capacità allocata. La colonna verde sono i dati scritti. Faccio reverse engineering. Questo è il totale che effettivamente scrivo ed effettivamente utilizzo. Sono i dati scritti all'interno del mio storage array. Questa è la capacità allocata. Ma a me piace molto vederla da un punto di vista differente. Questa è sì la capacità che offro ai miei host VMware o ai miei applicativi. Ma è anche il livello di servizio che sto erogando verso il mio inducer, verso il cliente finale, che sia interno o che sia esterno. Quella colonna rossa è la colonna che fa dire ad un utente che sta utilizzando, che sta prendo, che apre il suo client Outlook, apre una mail, vede 6 secondi di clessidra, è quella colonna rossa che fa dire a quell'utente, l'infrastruttura sulla quale della mia azienda non è performante. È assolutamente rilevante per chi deve gestire un data center e deve erogare dei livelli di servizio. Per scrivere quel dato e per erogare quel tipo di servizio, questo è l'hardware che devo acquistare. Lì dentro, come dicevamo, c'è l'hardware, ci sono i costi di gestione, ci sono gli skills, ci sono i costi di supporto, c'è il power and cooling. Tendenzialmente questo modello è un modello che è il modello che utilizziamo all'interno dei nostri data center, ma è un modello inefficiente. Se noi ipotizzassimo un'ipotetica, ipotizzare un'ipotetica non si può sentire, se noi ipotizzassimo una linea di efficienza in termini di dollari spesi, soldi spesi rispetto alla capacità effettivamente scritta, la tendenza di questa linea sarebbe negativa. Grande vantaggio in termini di costo di gestione dell'infrastruttura, potremmo ricavarne se quantomeno questa linea di efficienza riuscissimo a renderla il più flat possibile. Si può fare? Secondo noi sì. Per dimostrarvelo in pieno vi faccio vedere questa cosa, che è il nostro punto di vista. Questo punto di vista è basato su una fotografia di, sono quattro chart, adesso vedete quattro chart, che rappresentano dei modelli di deployment e di utilizzo di tripar all'interno dei data center distribuiti nel mondo. Quello che state per vedere sono delle fotografie di soluzioni tripar, che parlano con i data center, comunicano il proprio status, e negli status c'è capacità scritta, capacità occupata, capacità allocata. Il primo l'abbiamo chiamato tradizionale. Nella fotografia tradizionale, questa è una bella fetta di base installata tripar, abbiamo una foto tradizionale, cioè la capacità raw che acquisto è ancora molto importante, la capacità che effettivamente scrivo è decisamente più bassa dell'hardware che ho acquistato. Esporto tanto, faccio un buon servizio di allocazione, rendo un buon servizio verso i miei utenti finali. Sicuramente, questo ci ha portato a fare una riflessione, che riguarda sicuramente noi, abbiamo l'opportunità di fare dei ragionamenti con i nostri clienti, perché tripar è una soluzione nativamente efficiente. È vero? Chart numero due, l'abbiamo chiamata overall location, guardate cosa succede, in questo caso abbiamo una serie di data center che utilizzano tripar in una modalità più efficiente. E quello che succede è che la capacità acquisita comincia ad avvicinarsi alla capacità realmente scritta. Sto comprando meno hardware, la traduzione letterale di quello che state vedendo. All'interno di questo gruppo di data center che abbiamo chiamato overall location, c'è la top ten, ci sono i data center illuminati? Fatemi utilizzare questa definizione. Guardate cosa succede alla capacità scritta rispetto alla capacità raw. Si stanno avvicinando sempre di più. Qua si acquisita ancora meno hardware, ma non è cambiata la capacità di erogare servizio, perché come vedete la colonna dello SLA, la colonna dello spazio allocato, è decisamente molto alta. Guardate cosa succede nella fotografia flash. Quello che avete visto fino adesso, le tre chart, comprendono qualsiasi base installata tripar. Lì dentro ci sono dischi rotativi tradizionali, capacitivi, veloci, SSD. Quindi nella quarta chart c'è solo, esclusivano fotografia, della base installata flash. Cambio di paradigma. La colonna blu, la capacità raw acquistata, è più bassa di ciò che abbiamo effettivamente scritto. È il cambio di paradigma. È il cambio di paradigma che può far veramente rivedere il criterio con cui costruire un data center storage. Quello è total cost of ownership. Che traduciamo così. Abbiamo fatto questo esercizio banalissimo, abbiamo normalizzato, rispetto alle quattro chart, la capacità effettivamente scritta, 40 terabyte, e abbiamo ipotizzato un costo TCO al terabyte di 2500 euro. Costo TCO, ok? Non è solo il drive SSD. Lì dentro c'è il drive, power and cooling, il supporto, la manutenzione, ok? È il costo complessivo. Abbiamo fatto le moltiplicazioni. Questi sono i KPI. Che cosa c'è dentro quel calcolo TCO? Abbiamo fatto le moltiplicazioni. Questa colonna sono 150 petabyte. 150 petabyte raw per 81 petabyte allocati per 40 terabyte scritti. 150 per 2005, 375 mila euro su 5 anni. Modello tradizionale. 74 terabyte nel modello overall location. Abbiamo già dimezzato, solo facendo, utilizzando in maniera più efficiente le nostre soluzioni, abbiamo già dimezzato la capacità raw. 185. Gli illuminati abbattono ulteriormente la capacità hardware acquisita, 132. Il cambio di paradigma. 30 terabyte acquisiti 40 terabyte scritti. Il costo ovviamente si abbatte ulteriormente. C'è un'opportunità flash oggi? Dal nostro modesto punto di vista assolutamente sì. Avevamo detto che se fossimo stati in grado di inclinare verso il basso, cioè di rendere più flat possibile la nostra ipotetica linea di efficienza ne avremmo guadagnato in costo di gestione dell'infrastruttura, in questo caso non solo riusciamo a renderla flat, ma riusciamo addirittura ad invertirne la tendenza. Come si fa questa cosa? Nessuna magia. Buona ingegneria. Flash ci permette di introdurre ne ho parlato questa mattina Enrico concetti di efficientamento del dato. Concetti di data compaction. Quel risultato lo sottiene cioè scrivere più di quanto capacità hardware compro veramente introducendo criteri legati al team provisioning legati alla zero bit detection legati alla data di duplication. Flash senza data compaction è un dispositivo estremamente veloce ma che ricade ancora nella fotografia che abbiamo fatto inizialmente. Veloce ma costoso. Flash con buone tecnologie di data compaction diventa un dispositivo da inserire all'interno di io lo dico qualsiasi data center e vi assicuro il lavoro che stiamo facendo in 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 questo momento. vuoi darmi dei tempi? Ah quando vuoi poi c'è pasta che si raffredda avrei detto che sarei stato rapidissimo non faccio vendita di pentole vi saluto facendovi vedere la foto ma no Enrico va benissimo anche perché io poi sono qua a vostra disposizione se qualcuno volesse fare volesse avere qualche informazione in più questa è la nostra fotografia di famiglia io oggi vi parlo di Tripar sono i nostri gioielli gialli anch'io come Pier Giorgio amo sono attratto dal colore di Tripar ci stanno dando delle grosse soddisfazioni sono un unico sistema operativo che copre dal dal segmento S&B S&B da un punto di vista HP da un punto di vista di grande azienda americana all'enterprise più spinto due famiglie di soluzioni 7000 e 20.000 annunciati la settimana scorsa i 7000 sono le macchine su cui abbiamo costruito la storia di Tripar negli ultimi due anni e mezzo ci hanno dato delle grossissime soddisfazioni i 20.000 Enrico ha assistito alle presentazioni a Las Vegas la settimana scorsa sono dei mostri sono macchine da ecco il vendor 3.2 milioni di IOPS di targa ok non sono 3.2 milioni di IOPS fossero solo un milione e mezzo e insomma sono veramente tanti stiamo parlando di ordini di grandezza veramente differenti da quelli a cui siamo stati abituati sino ad oggi la cosa veramente interessante è che il punto di vista di HP su Flash è molto semplice Flash è una soluzione che si chiama Repar un unico sistema operativo con tutti i data services senza nessun silos quello che faccio con un 7.2 pieno di dispositivi di drive SSD lo faccio con un 20.850 che è la macchina All Flash Monster e viceversa non esistono dispositivi da aggiungere per garantire alta affidabilità per fare failover trasparenti o per replicare in maniera sincrona piuttosto che sincrona un'unica soluzione che ci sta differenziando sul mercato che ci sta dando delle grosse soddisfazioni che ci sta dando Grazie.